e ora cedo la linea al nostro inviato spaziale di questa settimana direttamente da Bolzano grazie della linea TG Wild, oggi siamo in collegamento da Bolzano come potete vedere alle mie spalle e siamo qua per darvi una notizia sensazionale pensate che il termometro è sceso sotto i 20 gradi e nonostante questo ho dimenticato a casa i pantaloni amici del TG Wild, fa veramente, veramente, veramente freddo a te la linea complimenti, complimenti è partito il rack stai fermo, non ti muovere cerchito il rack si ok no no, rifacciamo vieni su e poi torni su si viene il movimento a me mi sembra che veniva bene non toccare niente, la rifaccio io no 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 vai sta già andando il rack ok, la rifacciamo che è venuta malissimo lo spengo qua aspetta, adesso mi provo a guardarla vedete se va bene